Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Italpress Economy. Cominciamo come sempre con le principali notizie di politica economica, di economia pura che riguardano il nostro paese. Vediamo. La crescita è lenta e i consumi, complice anche la stagnazione salariale, restano fragili, lo scrive Banca Italia nel suo bollettino economico. Dopo la moderata espansione del primo trimestre di quest'anno, il PIL ha continuato a crescere in misura contenuta in primavera. Un miglioramento, osserva via nazionale, sostenuto ancora dai servizi, in particolare del turismo, che si avvantaggia del buon andamento della spesa dei viaggiatori stranieri. Per contro l'attività si è ridotta nelle costruzioni e nella manifattura. Dal lato della domanda all'ulteriore espansione delle esportazioni e alle indicazioni positive sui consumi, si associa un quadro meno favorevole per gli investimenti. In questo contesto le aspettative sono modeste. Il PIL aumenterà dello 0,6% nel 2024, dello 0,9% nel 2025 e dell'1,1% nel 2026. L'eventuale aggravamento dei conflitti in corso rappresenta ancora il principale rischio al ribasso per la crescita globale. L'aumento dell'occupazione e soprattutto il calo dell'inflazione, che in Italia è sotto la media UE e ben al di sotto dell'obiettivo del 2%, hanno fatto risalire il potere d'acquisto. Tuttavia le famiglie si troveranno di fronte in questi mesi vacanzieri a una robusta crescita dei prezzi nel comparto turistico. Riprende vigore la voglia di fare impresa in Italia nel secondo trimestre 2024. Secondo l'analisi trimestrale condotta da Union Camere e Info Camere, tra aprile e giugno il saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese vede un incremento di 29.489 attività, con un risultato superiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso. Uno degli elementi chiave di questa crescita è stato l'aumento delle iscrizioni, che hanno toccato quota 81.456, registrando una ripresa di 2.179 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023. Sul fronte opposto le cessazioni hanno raggiunto le 51.967 unità, segnando un incremento rispetto alla media storica e il quinto aumento consecutivo in cinque anni. In termini assoluti, il Sud si conferma un importante motore di crescita, con un saldo positivo di 9.084 nuove imprese e un tasso di crescita dello 0,44%, in linea con quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Anche il nord-ovest e il centro Italia hanno mostrato performance positive, con tassi di crescita dello 0,56% e dello 0,51%. La Lombardia si distingue come la regione più dinamica, con un saldo positivo di 6.483 imprese, seguita dal Lazio, che ha visto un incremento di 3.851 nuove aziende. Scendono i tassi sui mutui immobiliari. A giugno, secondo i dati dell'Associazione bancaria italiana, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,56% rispetto al 3,61% di maggio e al 4,4% di dicembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 5,5% rispetto al 5,38% di maggio. In leve calo anche il tasso medio sul totale dei prestiti. Il credito a imprese e famiglie è sceso dell'1,7% rispetto a un anno prima, ma si tratta di un calo annuale inferiore rispetto al meno 2,1% che era stato registrato a maggio. I crediti deteriorati netti a maggio si sono attestati a 30,3 miliardi di euro rispetto al livello massimo raggiunto nel 2015. Sono in calo di 166 miliardi. E ora il nostro sguardo sull'Europa, la notizia importante della settimana, c'era molta attesa sulle decisioni della Banca Centrale Europea a che fare con il costo del danaro, c'era stato il taglio di un quarto di punto a ridosso delle elezioni europee, la BCE oramai si sa ha deciso di lasciare invariato, quindi molto alto il costo del danaro, deludendo molti, ma spiegando anche i suoi perché. Questo ovviamente non risparmia la BCE, dalle gridi che oramai vengono un po' da tutte le parti, ma vediamo le notizie nei nostri servizi. Restano invariati i tassi di interesse dell'Eurozona. Il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di mantenere i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale, rispettivamente al 4,25%, al 4,5% e al 3,75%. Le nuove informazioni confermano sostanzialmente la valutazione precedente del Consiglio Direttivo sulle prospettive di inflazione a medio termine. In linea con le aspettative, l'impatto inflazionistico dell'elevata crescita salariale è stato assorbito dai profitti. La politica monetaria mantiene restrittive le condizioni di finanziamento. Al tempo stesso le pressioni interne sui prezzi restano alte, l'inflazione dei servizi è elevata ed è probabile che quella complessiva rimanga al di sopra dell'obiettivo del 2% fino a gran parte del prossimo anno. Il Consiglio Direttivo della BCE manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario. Nel 2025 si prevede che il disavanzo pubblico dell'area euro scenderà al 2,8% del PIL, mentre il debito pubblico nel periodo 2023-2025 dovrebbe attestarsi a circa il 90% del PIL. Il dato è contenuto nella dichiarazione dell'Eurogruppo sulla posizione di bilancio nel 2025. Di fronte all'esigenza di ridurre gli elevati livelli di deficit e debito, i ministri economici dell'area euro ritengono necessario un consolidamento fiscale graduale e sostenuto, ma riducendo al minimo l'impatto sulla crescita, continuando a migliorare la produttività e mantenendo o aumentando gli investimenti ritenuti essenziali per un'economia competitiva. Il messaggio è chiaro, è arrivato il momento per una spesa pubblica di qualità. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo saranno piani fiscali, strutturali, nazionali a medio termine, che già il prossimo autunno saranno valutati dalla Commissione e successivamente approvati dal Consiglio. Piani di rientro, ha evidenziato il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, la cui necessità non è più rinviabile, soprattutto per i paesi per i quali è stata aperta una procedura di deficit eccessivo. E siamo arrivati nel nostro format, subito dopo le notizie dell'Europa, parliamo in qualche modo ancora, non dico d'Europa, ma comunque di mondo, perché parliamo di turismo, che è ovviamente mobilità, viaggi, scambi culturali, insomma economici, con Alessandra Priante. Ho imparato nome e cognome, di solito io leggo sempre i nomi e i cognomi di quando facevo l'OTG per evitare che uno dica, non so, Giovanni Mattarella, sa queste cose, ma facciamo come Biden che chiama Putin e Zalewski o che chiama Trump e chiama Harris, però insomma per fortuna lo dico con delicatezza, insomma non voglio fare bodi scemi con un grande uomo politico come Biden. Presidente di Enit, che è l'Agenzia Governativa per il Turismo, la traduciamo così, la prima domanda nel nostro contesto è sempre dire al pubblico che ci segue, le nostre 120 tv, i nostri territori, i nostri siti, noi siamo per la grande chiarezza, io nella prima puntata di tal per secondo mi ho detto che l'economia in Italia è per pochi, invece noi vogliamo essere per tutti, quindi cosa fa? Qual è la vostra mission? Com'è cambiata anche la governance, leggo negli appunti pomposi che ho ricevuto, ma simpatici, la riforma che la resta una società in house. Esatto. Allora ci spiega? Allora l'Enit è molto semplice, è come in tutti i paesi l'agenzia che promuove il paese all'estero, è nata nel 1919, ancora mantiene il suo acronimo, che devo dire è sempre un po' difficile da masticare rispetto magari ad altri paesi che... Lo vuole fare lei la spelling dell'acronimo? È Ente Nazionale Italiano Turismo? Sì, va bene. Credo? Sì. Speriamo di non fare errori. Non lo so perché io traduco tutti gli acronimi, ho tradotto con l'agenzia governativa dare il senso, ma gli acronimi vanno tradotti anche lettere per lì. Guardi, io lavoravo fino a marzo alle Nazioni Unite, nelle Nazioni Unite è tutto un acronimo, io quando sono arrivato avevo obbligato il mio team a non usare acronomi. Queste le Nazioni sono sempre più disunite. Quando mi scrivevano, tipo, inviare queste cose e c'era la parola COB, C-O-B, Closing of Business, e quindi io la capisco sugli acronimi. Perché allora, chi ha detto questo cosa fa? Cosa fa, esatto? Allora, la mission normale di una, diciamo, agenzia di promozione di una nazione all'estero non è solamente legata alla promozione, ma anche fare tutta una serie di cose a sostegno dell'azione del Ministero, da qui la parola in house. Non che prima non fossi a sostegno, ma ora nella forma di società per azioni pubblica la nostra capacità di essere un braccio operativo è sicuramente molto più elevata, perché poi è vero che noi abbiamo al 100% tesoro, il controllo da parte del Ministero del Turismo, che ci dice cosa fare, ci dà un fondamentale atto di indirizzo, però è anche vero che siamo assolutamente allineati. Il turismo in Italia è ancora una materia esclusiva delle regioni, per cui abbiamo un Ministero del Turismo creato molto recentemente con portafoglio che ha una funzione importante a livello economico, aggregante, e l'ENIT è la parte che mette a terra una serie di indicazioni. Normalmente in Europa e nel mondo si parla non solo di promozione del paese all'estero, ma anche di formazione e di market intelligence. Qua parliamo di economia, quindi parliamo di dati. Io sono uno di quei giornalisti, visto che abbiamo scherzato con Biden, possiamo scherzare sulla nostra serie, non sordi, sai che i giornalisti sordi sono quelli tendenzialmente chiusi, che fanno le loro domande, poi uno sente che dice che sta morendo di cancro e vanno avanti ancora. Allora, che cos'è questo marketing intelligente? È una domanda fuori sacco, non prevista, però l'ho sentito e mi ha incuriosito. Allora, la market intelligence è... Perché il mondo del market dovrebbe essere sempre intelligenza, no? No, perché è un'intelligenza di mercato. Cosa vuol dire? Che l'intelligence in generale, ora si parla dell'artificial intelligence, l'intelligence ha una base dati. Quindi la market intelligence è come analizzare in maniera intelligente i dati che abbiamo, perché come lei sa, in particolare in questo paese, ma anche nel resto del mondo, siamo molto abituati a dare i numeri, come si suol dire. Oh, sono d'accordo con lei. Però, io dico sempre, i numeri devono essere non solo buoni, per cui dobbiamo poterli selezionare, ma poterli anche elaborare e correlare come se fosse una frase, no? Che dove una mezza specie di gioco dobbiamo correlarli per fare in modo che i buoni numeri poi informino delle buone strategie. Lei è una formazione umanistica? Sì, penso di sì, no? Assolutamente, io sono un economista internazionale, mi sono laureata in Bocconi. Però l'economia è anche una materia umanistica, insomma, ambilico con la scienza, appunto con la migliorata. Mi piace la filosofia, questo è. Non è dubbio, io però insomma che sono stato invece un umanista vero e proprio, tra lettere e filosofia, diceva il grande Musil che nei suoi diari che 2 più 2 spesso fa 6. Certo. Allora, nella metafisica, e noi siamo il paese della metafisica, anche su cose serie, riportandoli invece all'oggettività scientifica, ai numeri e ai dati, come sta andando il turismo in questa prima parte del 2024? Se parliamo di una misurazione quantitativa il turismo sta andando benissimo, perché se la metrica mondiale è quella che vede il 2019 come il benchmark, per cui dico come sono andata rispetto a… e tutti concludono che stiamo andando molto meglio. In realtà stiamo andando non così bene a livello generale, perché se nel 2019 già ci lamentavamo del troppo turismo, in questo momento siamo anche a livello internazionale dicendo esattamente la stessa cosa. Quindi cosa vuol dire? Che sia prima che dopo non stiamo governando i flussi. Però scusi, se le faccio una domanda su questo, fra quantità e qualità dei numeri. Quindi mi sembra che andiamo bene come dati, come quantità di persone che arrivano nel nostro paese e che quindi portano ovviamente, presumo, anche un indotto economico, ma che non va benissimo qualitativamente, perché questo poi ne parleremo dell'over turismo e perché questa tra virgolette massa, lo dico non in modo dispigiativo, può creare dei problemi, insomma. Quindi noi dobbiamo oltre che essere attrattivi, dobbiamo anche essere capaci di gestire, giusto? Non mi correga perché io non sono un esperto. Completamente d'accordo. Non faccio un giornalista politico, non faccio un giornalista che si occupa di turismo in maniera tecnica. L'ha detto perfettamente, gestire, a cui io mi permetto di aggiungere due parole chiave per il turismo, che sono la programmazione e di nuovo l'intelligenza. Allora, il problema, in senso americano, quindi che non è necessariamente una cosa che è un'accezione negativa, nasce quando lei dice, no, le persone che arrivano, forse la quantità, la qualità, quando non si governa un flusso, cioè nel turismo abbiamo la possibilità di farlo, perché grazie a Dio le prenotazioni in teoria hanno un campo di anticipo. È vero che ci siamo sempre più spostando verso il last minute, però la maggior parte delle persone, delle vacanze. Soprattutto sono tracciabili, perché spesso è una piattaforma online, quindi internazionale. Ma certo e soprattutto gli stranieri normalmente programmano addirittura da un anno ad un altro, quindi non è che non abbiamo la capacità di sapere chi arriva, quando, dove va e cosa fare. È quello che gestirlo vuol dire saperlo, ma anche indirizzarlo, ad esempio, verso località meno note. È normale che ci sia un sovraccarico e quindi creando un impatto anche a livello antropico, molto elevato, nei punti di snodo aeroportuale, ferroviario, cioè quelli dove si arriva. È normale. Sta a noi essere molto bravi, in questo senso Enit si propone di essere protagonista nell'aiutare le destinazioni secondarie a disegnare un prodotto, per cui il turista che arriva, che succederà l'anno prossimo per il Giubileo, il turista che arriva su Roma prevalentemente, dobbiamo essere in grado di intercettarlo in maniera intelligente e di portarlo a visitare. Fanno passeggiato ogni tanto a stazione Termini, io adesso viaggio spesso a Roma-Milano. Enit è localizzata a via Marghera numero 2, quindi è proprio dietro alla stazione Termini. Fanno passeggiate da reporter. Sostanzialmente io apro la finestra e vedo la fila di quelle che aspettano i taxi. Io ho consigliato ai tassisti, in maniera simpatica, di chiamare il comune e di far mettere una pensilina dove c'è l'attesa dei taxi, perché è la fila lunga, sotto 38-42 gradi, se c'è qualche collasso poi viene messo in conto così. Però al di là di queste persone, evitiamo un eccesso di giorni e andiamo alle cose. Prima di tornare su questo tema dei grandi eventi, dell'overturism e della gestione, l'Italia rimane un paese attrattivo nel suo complesso, ma secondo i vostri dati e le vostre analisi dei flussi, quali sono le aree attrattive oggi principali? Perché sono cambiati i gusti degli stranieri, sono cambiati i gusti degli italiani stessi che si spostano? C'è l'arte, mare, montagne. Prendo spunto dalla seconda cosa che ha detto, secondo me con il Covid in particolare gli italiani che chiaramente rimangono sul territorio ancora in maniera prevalente, hanno scoperto delle nuove destinazioni che non sono nuove in realtà, sono un po' una riscoperta del proprio territorio, perché con il discorso del viaggio limitrofo magari hanno scoperto che si trovano molto meglio invece che andare al mare e magari essere sempre congestionati nello stesso periodo, che in quello stesso periodo potrebbe essere più carino andare in un villaggio, in un borgo, piuttosto che in una città, cittadina necessariamente non sul mare ad esempio o anche in altri luoghi marini non battuti e quindi devo dire siamo stati molto bravi secondo me. Voi fate un po' questo lavoro, no? Anche. Prendere un inespresso, renderlo esplicito. Aiutiamo a farlo. Fate da ponte, da comunicazione. Anche, anche. Siamo a totale disposizione degli operatori delle regioni che magari vengono da noi e ci dicono, soprattutto perché noi diamo un expertise sull'estero, quindi magari noi li aiutiamo a dire guarda in questo mercato, magari in questa fiera, mercato francese, mercato tedesco, ma anche in quelli overseas, questo prodotto potrebbe andare molto bene e quindi se loro sono intelligenti, hanno desiderio anche di investire delle risorse, sicuramente è importante, nonché facciamo poi un po' di formazione, lo facciamo con i workshop, li prepariamo a gestire in maniera intelligente anche la promozione della loro nuova destinazione. Giusto. Senta, benultima domanda, vede il tempo scorre velocemente, insomma, io sono stato un po' verboso oggi rispetto alle mie abitudini. Giubileo 2025, Olimpiadi Invernali 2026 che coinvolgeranno l'asse Milano-Cortina, di cui insomma si è parlato tantissimo. Cosa si aspetta? Come vi state attrezzando? Allora, i dati previsionali forniti da fonti differenti parlano di addirittura circa tra i 30 e i 50 milioni di persone, una forchetta molto ampia, quindi da un punto di vista statistico questo è un exit, poi non sapremmo fino a... Bravissimo, da un punto di vista statistico è sicuramente un dato che è necessita di maggiore focalizzazione. Nel corso dell'anno prossimo, solamente sul territorio di Roma e Limitrofo, le Olimpiadi parlano nella zona Milano-Cortina, che oltretutto è una zona molto interessante, no? Olimpiadi tra virgolette città che coinvolgono una città, però si parla di un più 35-37% di presenze in quel particolare territorio, in quel particolare periodo. Io esprimo un augurio che quando ci rivedremo, e spero a breve, faremo questa cosa insieme. Io mi auguro che ci siano dei dati un pochino più, diciamo, prodotti in maniera un pochino più focalizzata e che ci consentano di fare delle elaborazioni... numericamente così spaventano. Assolutamente sì, però se spaventano, questo cimpone di sederci tutto al tavolo, tutti, Enet, Ministero e soprattutto le contraparti, e dire perfetto, cosa facciamo per riuscire a gestire tutto questo. E questa è la prima domanda che faccio sempre sulla governance, sulla mission istituzionale, perché poi dopo bisogna che le varie entità, no enti del turismo, le varie entità, le piacere entità, si parlino e collaborino, perché senza collaborazione non si risolve nessun problema. Del resto anche io sono un esperto di crime e l'FBI ha cominciato a prendere i serial killer negli Stati Uniti quando i vari Stati hanno messo insieme i dati dei movimenti dei serial killer. Se no uno colpiva in uno Stato, veniva forse condannato in un altro, ma spesso non veniva proprio trovato perché viveva in un terzo Stato. Esempio eccellente. Hanno messo insieme i dati, quando l'FBI ha messo insieme i dati sono cominciati i cosiddetti mind hunter, i cacciatori dei predatori di uomini. Allora, vedi, è un grande studiare serve. Allora si parla sempre più spesso, e l'abbiamo fatto anche noi, di overturism, proprio come fenomeno patologico, cioè masse di turisti. Noi in Italia facciamo l'esempio di Venezia, perché è una straordinaria bomboniera di bellezza, è un grande patrimonio architettonico di stile, ma anche fisicamente molto fragile, quindi masse di persone che entrano, insomma io sono un liberale, quindi non amo mai mettere dei limiti, però forse è necessario metterli questi limiti, ho fatto l'esempio di Venezia, ma possiamo parlare in assoluto di governo di queste persone che arrivano. Secondo me l'overturism è un concetto sbagliato, è un concetto che serve, ma su cui bisogna essere pratici pur violando un principio. Mi piace che lei l'ha chiamato concetto, a me non veramente la parola overturism mi fa venire degli eczemi, nel senso che in generale nella narrazione viene trattata come se fosse un fenomeno atmosferico, cioè oggi c'è l'overturism, domani, esatto, esatto. Abbiamo fatto una categoria, two is in change. Esatto, e in realtà è esattamente la decisione della conseguenza di una mancata gestione e di una mancata programmazione, quindi è come se lei avesse invitato a casa sua, che immagino non essere, o me lo auguro per lei, non essere di 5.000 meri quadrati, però è come se lei avesse invitato in una casa normale 10.000 persone. Chiaramente è scontento lei, sono scontenti loro, sono scontenti vicini. Non serve a mettere i ticket? Io assolutamente non ci credo. Il ticket non serve, servono degli strumenti, e torniamo a quello che dicevamo prima, di market intelligence, il che vuol dire che se io so che in quel particolare periodo avrò una congestione, perché ho la possibilità di saperlo, perché le crociere, lo so prima quando arrivano, i voli li posso monitorare, idem per gli arrivi, a maggior ragione a Venezia, che è un punto di approdo in cui necessariamente devi sapere chi arriva, non è che arriva il pirata nella barca che invade con 5.000 persone. Proprio perché lo sai prima, puoi prepararti e probabilmente, probabilmente il ticket di 5 euro o 10 euro, 20 euro all'entrata fosse anche di 150, non serve dal mio umile punto di vista per due motivi. Uno, perché non stai utilizzando il dato di ritorno, cioè se io lo facessi come scusa per profilare la persona che viene, allora posso dire, vabbè, è uno strumento intelligente con cui mi prendo un paio di soldini, ma fondamentalmente ti identifico per servirti meglio e per gestire meglio le mie criticità. La seconda cosa è che si perde l'aspetto principale della comunicazione. Quando al turista che fino all'altro ieri veniva tranquillamente gli dici ora devi pagare 5 euro e devi spiegare perché, magari gli spieghi che va per proteggere una città delicata, allora se lo fai lo rendi partecipe di qualcosa e magari lo puoi anche far pagare di più, però insisto, io non sono d'accordo con questo. Quello su cui sono d'accordo invece è la possibilità di sapere che quel particolare mercoledì ci saranno troppe persone su Venezia e quindi è un rischio proprio di impatto antropico sul territorio, quindi è un rischio fisico per Venezia, allora intelligentemente io me li intercetto e gli propongo magari di andare quel giorno a vedere le colline del Prosecco che sono poco distanti. Siete, il nostro tempo è finito perché l'Ital Press Economy è molto serrato perché è un settimanale, quindi se noi rischiamo di essere lunghissimi, poi il web ci rifiuta, non siamo più moderni, c'è spelle per eccesso di lunghezza, però se vuole tornare, come sono tutti temi molto importanti, ci sono degli altri da sviluppare che oggi non facciamo in tempo. Noi siamo qui, l'aspettiamo sia l'Ital Press Economy ma anche nella rubrica Primo Piano che faccio legata comunque a un incontro che è un po' più disteso e facciamo un po' un faccecchi di come è andato questo 2024, però una domanda che la faccio, però mi deve dare una risposta sintetica, lo chiedo a ogni presidente, a ogni manager, a ogni capo che noi immaginiamo sempre solo un putto in mezzo dei dati, in mezzo al marketing, dico sempre che c'è anche una mission, c'è un desiderio, c'è una voglia, c'è un aspettativo, un dream, il suo qual è su questa materia che abbiamo detto? Cosa si aspetta nei prossimi sei mesi, nel prossimo anno? Io vorrei che... Fare, lei insomma. Io vorrei che Anit diventasse un punto di riferimento digitale, che si digitalizzasse essa stessa e diventasse un punto di riferimento per il turismo digitale per tutta l'Italia, mi aspetto che sia un punto di riferimento per la formazione, specie per lo skill e il reskill, parlando di intelligenza artificiale, quindi nuove professioni e mi aspetto che sia un grande punto di riferimento per i dati. Allora io insomma su questo, le faccio un bocca al lupo ovviamente, che sono tutte positive comunque poi per i cittadini, solo per l'ente che lei rappresenta e faremo allora un tagliando. Ci sto. Grazie ad Alessandra Priante, presidente di Anit, ci vediamo insieme, le novità che ci sono ogni settimana nel nostro format in un mondo importante, anche quello economicamente e culturalmente, che è l'iTech. Vediamo. L'intelligenza artificiale e le competenze green stanno rapidamente trasformando il mercato del lavoro, ridefinendo settori e ruoli e generando implicazioni significative per professionisti, imprese e policy maker. Sono i principali contenuti della ricerca condotta dal Centro Studi Asso Lombarda e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore presentata a Milano. Monica Poggio, vicepresidente di Asso Lombarda per l'Università, ricerca e capitale umano. Il mercato del lavoro si sta polarizzando, quindi c'è molta richiesta, guardando le percentuali, richiesta per professioni ad alto contenuto di specializzazione, soprattutto ad alto contenuto di competenza che afferisce più al mondo dell'intelligenza artificiale, quindi ovviamente quel tipo di skills, ma anche per esempio professioni cosiddette green, quindi tutto quello che è l'ambito della sostenibilità. Dall'altra parte nella polarizzazione abbiamo grande richiesta per invece mansioni a contenuto più manuale e operativo. Queste sono le due polarizzazioni che vediamo. Lo studio condotto da Emilio Colombo, professore di politica economica alla Cattolica di Milano, ha posto come oggetto di analisi le offerte di lavoro postate sui siti web che forniscono uno spaccato delle competenze richieste per ogni occupazione. Un altro elemento che emerge in maniera chiarissima è che una quota frapponderante dei lavori, degli annunci che sono postati su internet, si riferiscono a professioni che hanno un elevato grado di quelle che gli americani chiamano la teleworkability, cioè possono essere svolte da remoto. Quello che è interessante è che abbiamo analizzato, perché abbiamo guardato quali sono le competenze che sono richieste in questi lavori. Questi stessi lavori che sono più probabili essere svuoti da remoto sono dei lavori che hanno un alto contenuto di competenze, di carattere di comunicazione, di interazione sociale. E nel focus di oggi inevitabilmente, giustamente, approfondiamo la notizia economica della settimana, quella più attesa, la decisione della BCE sul costo del danaro, ma al di là di come è andata vogliamo sapere dal nostro economista di fiducia Giuliano Zoppis oggi in collegamento le motivazioni, quelle che sono state date ufficialmente, quelle che possiamo dire in sede di interpretazione giornalistica, le conseguenze per l'economia italiana e che cosa ci dobbiamo aspettare a settembre. Sì Claudio, buongiorno. Sì, la decisione di ieri della Banca Centrale Europea è quella che tutto sommato gli operatori, il mercato, l'ordine pubblica si attendeva. Francoforti ha lasciato invariati, hanno una nevità ed è importante sottolineare questo aspetto, i tassi ufficiali. Al 4,25% quello di riferimento, al 3,75% quello di riferimento, sui depositi. Era, abbiamo detto, una decisione attesa dopo quella di taglio per la prima volta dopo 5 anni di giugno, ma una parte, sia pure piccola, il mercato ci scommetteva. Perché ci scommetteva? Perché tutto sommato il punto di riferimento di Francoforti, che è l'inforzione, sta migliorando. C'è stata il vero una piccola pressione a maggio, ma la stessa Cressi Lagarda ha sottolineato oggi, che era un fatto episodico. Quindi le aspettative si stanno congelando, tutto sommato, intorno a questo livello ormai abbastanza interessante del 2,5% nell'area Euro, in calo dal 2,6 di maggio. Però ovviamente, ha detto la Lagarda, siamo ancora lontani dall'obiettivo. L'obiettivo, ricordiamo i nostri amici che ci ascoltano, è il 2%. E la Lagarda ha detto che probabilmente ci vorrà tutto il 2025 per arrivarci. Quindi c'è questa stabilità, ma ancora, dicono a Francoforti, le pressioni interne sui prezzi, soprattutto quelle dei servizi, che grazie a Dio sono molto vivaci, rimangono elevate. Quindi l'inflazione nel suo complesso va bene, però c'è questa componente che ancora preoccupa. Questo è l'aspetto più importante. E la cosa che tu dicevi a questo punto, come sempre, si riflette sulle aspettative. Passerà l'estate, si arriverà il 12 settembre alla nuova riunione. Ricordiamo i nostri amici che settembre e dicembre sono due mesi di previsioni, cioè sono quelle che coincidono in Europa con l'emanazione di nuovi dati macroeconomici e soprattutto con la previsione dell'inflazione. Cosa ci si aspetta? Il mercato si aspetta e auspica almeno altri dettagli entro la fine del 2024. Ma oggi, sempre all'anonimità, per la prima volta, la BCE ha detto che procederà di volta in volta, vedendo quali sono i dati e vedendo quali sono i dati deciderà. Ha detto anche una frase abbastanza enigmatica, criptica, che però lascia aperto lo spazio a tutto. Ha detto sostanzialmente la Cressin Lagarde che la nuova riunione di settembre è totalmente aperta. Quindi dipenderà e si vedrà quello che succede. Questa cosa, Claudio, ovviamente ha delle influenze per l'Italia. Ecco, aspetta, prima di parlare a questo punto faremo la conclusione sull'Italia. Parliamo un attimo dei metodi che sta adottando la BCE, perché cerchiamo di essere un po' chiari anche con chi ci segue. Deve pagare un mutuo variabile, un prestito aziendale, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto di riservarsi, di decidere ogni volta nel breve termine è un parametro che non dà nessuna garanzia di lettura dell'economia come macrosistema, come macroelemento di sviluppo, come se l'inflazione fosse una cosa che dovremmo decidere di volta in volta su base mensile. E seconda domanda, per un'inflazione deve arrivare a un 2% con un feticcio, un modello formale indicato da un economista neozelandese tanti anni fa. Siamo al 2,6, arrivare al 2 dobbiamo aspettare ancora un anno di sofferenze così gravi per tanti cittadini europei? Sono queste le due domande che ti faccio da economista, eh? Sì, Claudio, rispondo dalla seconda. Effettivamente una parte del mercato, appunto quella più critica nei confronti di Francoforte, dice sostanzialmente che questo 2% è superato. È un limite ormai che anche per quello che riguarda gli Stati Uniti non è più attuale. E si collocerebbe, secondo questa corrente di pensiero, su un livello più alto che sarebbe esattamente quello che abbiamo raggiunto, il 2,5%. Questo perché? Perché di fronte anche a una spinta dell'economia è evidente che i prezzi si muovono, i prezzi si fanno verso l'alto. E quindi sostanzialmente questa corrente di pensiero economico dice che questo 2% sarebbe da rivedere. Questo è il primo punto. Il fatto di decidere senza vincoli, senza legarsi a un percorso, senza dire come hanno detto oggi, come hanno detto ieri, non ci assumiamo nessun impegno, non ci assumiamo nessun vincolo sulle nostre decisioni, effettivamente lascia indifeso che in qualche modo deve programmare le sue politiche. Per l'Italia c'è un doppio peso. Da una parte di livelli che comunque, anche ieri Francoforti l'ha detto, nel momento in cui dovessero pervenire nuove decisioni di taglio, sarà sempre una politica monetaria restrittiva. Significa un danno comunque per il nostro Paese, che deve pagare pesanti interessi di debito pubblico. E per tutti noi, diciamo, cittadini, significa avere per ancora lungo periodo delle rate di mutuo decisamente elevate. Queste mi sembra che sono, in sostanza, le conseguenze principali. Ovviamente ci torniamo insieme. Ma, insomma, un'ultima domanda che volevo farti. Abbiamo ancora due minuti. Quanto inciderà, diciamo, questa decisione e un'eventuale decisione di non taglio a settembre su poi la costruzione della nostra manovra finanziaria, le previsioni sulla crescita? Perché qui si parla sempre solo dei poveri cittadini a mutuo tasso variabile. Ma, insomma, dobbiamo dimenticarci che un costo ancora così alto del denaro incide proprio su tante forme del mercato, compreso quello immobiliare, tra parentesi, no? Certo. Questa si va, in qualche modo, a congiungere con l'altra decisione di ieri, cioè con il nuovo della Fonderland, perché oggettivamente noi siamo sotto processo, ma non soltanto noi, la Francia e altri paesi, per quello che riguarda il livello di debito pubblico. Il nostro paese, come altri, è sotto procedura, come si dice, per che cosa? Per deficit eccessivo. Quindi, anche questa cosa, e ieri la Legarda ha ricordato, anzi ha applaudito, all'attenzione che Blusserr sta avendo per rispetto dei livelli di bilancio e politica fiscale, è oggettivamente per noi una preoccupazione. Dovremo valutare, nelle prossime settimane, anche che cosa ha significato per noi, Claudio, l'atteggiamento che il governo, direi, più in due terzi della componente governativa italiana ha avuto nel voto di Bruxelles, perché abbiamo molte partite a prese, questa è la più importante, ma ricordiamo che ce ne sono altre, c'è la sistemazione dell'ILVA, ci sono le direttive green, c'è la famosa direttiva del MES, quindi abbiamo un fronte aperto che a questo punto, fra Francoforte e Bruxelles, sarà abbastanza difficile. Francoforte e Bruxelles non coincidono, abbiamo detto mille volte che la BCE ha un suo livello alto di autonomia nelle decisioni delle politiche monetarie, certo hai fatto bene a ricordare che il mese di luglio, anche il mese in cui si ricompone la governance europea, c'è la riconferma tutt'altro che scontata di Ursula von der Leyen e di Mezzola, insomma quindi tra ventesi tutte donne, non ci si deve lamentare sulla parità di genere, almeno nelle altre sfere del potere politico istituzionale, però mi sembra che si vada verso anche una continuazione delle vecchie politiche europee, a prescindere dalle indicazioni del voto, dei comportamenti di quel governo, dell'altro in particolare del nostro, ma di questo poi ne parleremo nello specifico, vedendo anche come si va a comporre bene tutta la Commissione europea. Grazie a Giuliano Zoppis, ci vediamo insieme il servizio sull'agri-food. Arrivederci. Il mercato del biologico genera un giro d'affari da 2,1 miliardi, secondo quanto rileva Assobio. Il peso nella grande distribuzione italiana è pari solo al 3% del totale mercato alimentare, quasi il 90% delle famiglie acquista prodotti biologici almeno una volta all'anno. Tra i più venduti ci sono le uova, le gallette, le confetture e gli spalmabili a base di frutta e i sostitutivi del latte. Stando ai dati Nielsen IQ, la categoria che cresce di più rispetto allo scorso anno è l'olio extravergine di oliva, con un trend assolutamente positivo. In Italia le famiglie acquirenti sono pari a 24,8 milioni, lo scontrino medio è di 5,1 euro e la spesa media annuale pari a 150 euro. A questi dati si aggiungono quelli presentati da SVG che mostrano il percepito del consumatore. Emerge la conferma del forte legame tra prodotto biologico e salute, ma anche l'interesse verso prodotti arricchiti, ad esempio di proteine o con minore contenuto di grassi e zuccheri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.